Allora coach, partita bella, forse a un certo punto anche un po' nervosa, Nardò la stava per recuperare, è arrivato a un punto di distacco, poi forse è calata un po' anche l'intensità nell'ultimo quarto e Chieti la vince di 15. Io credo che questo fosse il tipo di partita che dovevamo fare noi qui a Chieti, in una situazione di emergenza, vista l'assenza perdurante di Stefano Provenzano e le condizioni precarie di alcuni giocatori che durante la settimana hanno accusato alcuni problemi fisici, quindi è chiaro che arrivare a giocarsi la partita in un momento, una partita a un certo punto si stava riaprendo, era quello che avevamo intenzione di fare, cioè essere aggrappati della partita per poi dare il colpo finale, colpo finale che non è mancato, cioè che non è arrivato, anzi in un momento caldo abbiamo preso due bombe in transizione, una di Gialloreto e una di Guyè che ci hanno spezzato le gambe in un momento in cui dovevamo ammazzare la partita. Credo che la differenza per loro l'abbia fatta sì Ponziani che ha fatto una grande partita interna ma credo che il lago della bilancia l'abbia oggi spostato Gianluca Di Carmine che ha fatto delle percentuali probabilmente per lui inusuali ma tirando molto molto bene, quindi lui ha sicuramente spostato il lago della bilancia. Nardò ha dimostrato ancora una volta quest'oggi che forse si trova in un punto della classifica non molto veritiero, è fiducioso per il proseguo della stagione anche in vista della qualificazione di playoff? Intanto abbiamo parlato di due Nardò, Nardò nella prima fase del campionato e Nardò successiva all'innesto di Bielic e dall'innesto di Bielic in poi abbiamo dovuto fare i conti invece con altri problemi di infortuni di alcuni giocatori che hanno ovviamente limitato le rotazioni. Di certo potevamo sicuramente avere qualche punto in più che abbiamo lasciato soprattutto in casa. Detto questo ci sono state anche delle ottime vittorie fuori casa contro le squadre brasonate come Biscegli e Civitanova che ci stanno facendo stare a galla. Potevamo sicuramente e dovevamo sicuramente fare di più, so che la squadra è evidente in alcuni momenti ha delle difficoltà, ci disuniamo ma vedere come in altri momenti riusciamo a cercarci a tirare in maniera aperta mi fa pensare che possiamo sicuramente fare ancora di più di quella fine del campionato. Allora Zampolli, una partita come stiamo dicendo appunto con il coach, forse dai due volti, Nardò prova a recuperarla e arrivando anche a meno uno e so spinta da te, da Drigo, da Bonfiglio, poi però chiedi di trovare il break decisivo nell'ultimo quarto. Sì, siamo stati bravi a rimanere concentrati perché loro hanno dato subito un'impronta forte alla partita e poteva slittare in maniera negativa per noi, quindi quello è stato sicuramente il volto positivo della partita da parte nostra, rimanere attaccati. Sapevamo che loro avrebbero messo in campo una grande intensità difensiva, un marchio di fabbrica dell'allenatore Piero Coen, quindi sapevamo che sarebbe andata così. Il tiro da fuori sarebbe stato determinante per noi. Infatti penso che la partita sia svoltata poi sulle percentuali negative nostre nella fase finale. Abbiamo girato palla bene, però su tiri aperti non abbiamo fatto canestro, tiri buonissimi, costruiti bene, quindi dispiace chiaramente, però merito a voi che siete stati in grado appunto di mettere in campo un atletismo che ci ha messo in difficoltà e forse è stata l'arma vincente proprio perché i tiri che abbiamo preso erano tiri forse dove mancavano un po' le gambe, però ci arrivi così perché è stato difficile crearli, quindi è la palacanestro, va bene così.